Giardino del Re Consumato Ciao a tutti amici della Balla Game Center bentornati su Dark Souls 3 Extra Dark Souls 3 Extra come ricordate bene è una mini serie di episodi non sappiamo ancora quanti però sarà composta da tutti gli episodi di pezzi che non ho fatto nella parte principale di Dark Souls 3 come per dire questo qua è il giardino dove si affronta Ocerios che è uno dei boss secondari di cui vi dicevo prima che serve per aprire la strada alla vetta dell'Arcidrago il problema è che io l'ho già battuto ma ho letto su internet che dopo aver sconfitto Ocerios dove qua trovate il simbolo per la via del drago quindi per entrare nella vetta dell'Arcidrago ci deve essere una porta segreta da qualche parte che vi apra in un'altra zona dove c'è un altro boss Aya segreto ma io quell'oggetto là me l'ero preso come mai c'è ancora beh vado a vedere per curiosità strano stranissima sta roba elmo del sangue di drago armature del sangue di drago guanti d'arme del sangue di drago e gambali del sangue di drago Dovakin mi viene in mente troppo Skyrim allora infatti vedete quel baule lì è aperto devo aver ucciso qualche NPC che mi ha sbloccato quella roba lì comunque deve esserci qua in giro che sia questa dietro qua infatti si sblocca una nuova zona di gioco completamente oscura si va giù da qui si tombe dimenticate oh un obiettivo cioè scusate un trofeo ecco questo pezzo qua non l'ho mai fatto quindi non ho più i palli di idea di cosa ci sia e direi che ce lo facciamo assieme allergie permettendo ma lo sapete che mi ricorda un sacco la parte iniziale di Dark Souls solo che ci sono dei mostri diversi dai vieni qua ma no ma vai figa ok dai vieni qua perfetto anello dell'estus cinereo cosa fa aumenta i PA recuperati con l'estus aaa ok si si questa qua non è altro che la zona iniziale proprio da dove cominciate Dark Souls solo che c'è scuro sfaticati anima di un cavaliere ok cosa c'è cosa i cani madonna che culo che culo che forse sono un po' abbastanza forte però oh oh cosa sei tu ah ho capito chi è è tipo una delle matrone la che ci sono ok perfetto frammento grandi di titanite anche qua c'è un cane sicuro come eh infatti top cosa abbiamo qua pezzo di titanite ottimo andiamo di là allora un'altra di queste di lì c'era uno che tirava le frecce di qua non c'è niente merda quanti cani ci sono vabbè uno alla volta vi affronto ma no tutti pezzo di titanite buono madonna quanti cani ci sono ah è questa che fa il giro praticamente ok devo eliminare un po' di cani qua questi due ma dai ma dai ma dai ok perfetto che avevo visto che c'era un oggetto qua è stata la mia impressione no quelli due lì sono vivi ma se li lascio stare va bene così di qua c'era la lucertola della titanite su sul pezzo iniziale cosa abbiamo adesso qua una lucertola della titanite due lucertole della titanite il che non mi dispiace ma affrontarvi uno alla volta sarebbe stato più consono mi culeranno no 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 calma calma posso farcela guarda uno è già a metà vita to to ok uh se riuscissi a bere perfetto scappiamo via ok allora wow ma dai che fintona che mi ha fatto uno posso fargli un attacco che culo scaglia e titanite due ok non ho più equipaggiata la la torcia ma mi sembra che qua non ci sia più niente da prendere eh già ok ok zona ripulita allora andiamo avanti e qua c'era tipo una bella vista al posto di tutto nero e qua c'era un falò che non hanno messo beh vabbè voi fate sempre schifo uguale quindi non è un problema mamma mamma balestrosi di merda ok anima la c'è un oggetto e va bene me lo vado a prendere madonna meglio che mi ricarichi la vita in velocità perfetto ah ok benedizione nascosta no ah qua non c'è più nessuno qua sono in due adesso vabbè sono in più di due sono in più di due sono in più di due oh dai ok aiaiaiaiaia ok aiuto aiuto ok devo fare fori lui allora prima di andare lì dove c'è tutto nero vorrei fare un giro e vedere se c'è qualcos'altro qua intorno di utile uah toh beh ci sono loro ok ho sei fiaschette e basta mi farebbe comodo un falò perché non l'hanno messo lì vicino perché se dopo c'è un boss perfetto di qua cosa abbiamo ok ah non c'è più niente peccato vabbè e niente proviamo con sei fiaschette allora perché non ho tante altre alternative cioè proviamo se c'è un boss lì dietro cosa alquanto plausibile direi ah infatti giudice santi di chieri o giudice gundir come si chiama su questo gioco qua beh direi che proviamo ad affrontarlo si attiva da solo gundir il campione si oh beh più o meno è uguale alla faccia dell'uguale oh to porca puttanaccia vacca è già in modalità bercher ha cambiato ha cambiato gli occhi ha cambiato gli occhi gente oh aiuto no io prendo le distanze da questi comportamenti incivili merdissima ma no però l'ho portato a metà vita posso farcela con tutte le fiasche dopo 40 minuti di tentativi falliti dai 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 posso farcela arrivo sempre a toglierli che gli manca pochissima vita e poi in qualche maniera lui mi incula e la cosa proprio non la sopporto soprattutto quando attacco a vuoto ecco scommettiamo eccolo due no che culo beh cosa ho schivato cosa ho schivato è destino questa battaglia è mia facciamo metà a metà ma ma doi ok sto 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 Quanto dolore, quanto dolore! Via, 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 via! Adesso... Via! Via! Adesso... Sì, ce l'ho fatta, finalmente! Dopo 15.000 tentativi, ce l'ho fatta! Oh, un bel gruppone di anime, 62.000! Qua cosa abbiamo? Falcione da Cavaliere Nero! Oh! E qua un falò! E lì una strada, forse... Oh, non potete immaginare che sollievo! Riposa accanto al falò! Beh, direi che proseguiamo il nostro tour qui dei bassi fondi di Lothric. Teoricamente qua dovrebbe esserci un altare del vincolo o una roba che ci assomiglia. Ma c'è una lucetta! Allora, 62.000 anime penso che siano un livello, però... Vediamo... Vediamo... Sì, è l'equivalente della zona che c'è... Li sentite anche voi, questi passi? Ci deve essere qualcosa di veramente, veramente grosso qua in giro. Non so se vale la pena girare con 62.000 anime. Anche se comunque non sono proprio... Cioè, forse me ne servono anche di più per andare su di livello. E vado su di un livello, quindi... Oh, cavalieri d'argento. Cavalieri d'argento ci sono qua. Beh, la cosa figa dei cavalieri d'argento è che si possono... Stabbare facilmente. E non sono neanche tanto... Forti. Ed hanno 2000 anime, questi. Che non è male, per carità, però. Dai, andiamo. Sono stato sculato. Uno. Due. No, dai. Magari mi droppassero le loro armi. Sarebbe quella la cosa figa. Cosa abbiamo? Giù per di qua. Niente. Sì, comunque è identico, spiaccicato all'altare del vincolo. Lì c'è l'entrata. No, questo pezzo qua. Ah, sì, sì. No. No, no, è uguale, uguale, uguale. Là c'è qualcosa. Ok, andiamo a vedere subito. E qua, ah, al posto del tipo dei mostri di merda, ci sono i cavalieri d'argento. E nessuno che troppo ha niente. Qua c'era un nemico forte. Che qui non c'è. Vabbè. Lama del caos. Qua niente. Forse la apro da dentro. Ma devo fare il giro. Se si può entrare. Di lì ce ne sono degli altri. Ma guardo dopo quei pezzi. Voglio vedere cosa c'è qua dentro prima. Ah, vuoi vedere che è questo falò qua? Ah, non è un falò. Frammento della spada spirale. Ah, ok. Il frammento della spada spirale. Vediamo subito di cosa si tratta. Dovrebbe essere una roba tipo... Se lo trovo. È qua. Sì, eccolo qua. Torna all'ultimo falò utilizzato o al santuario. Quindi è tipo un osso del ritorno indistruttibile. Illimitato. Esatto. Ah, ho capito. E qua sotto io posso girare? No. Parete segreta. Allora. Mettiamoci un attimo la torcia. Perché girare qua in mezzo senza torcia... Più che pericoloso credo sia... Che non si vede niente. Uh, oggettino. Occhi della guardiana del fuoco. Non li vedo. Cacchio, è sparita più velocemente dal normale. Occhi della guardiana del fuoco. Ah, qua c'è una guardiana del fuoco. Ah, quindi vuol dire che sono praticamente... Li devo dare? Ah, me l'aveva scritto Michael nei commenti. Che gli occhi della guardiana del fuoco servono per sbloccare uno dei finali cattivi. E quindi questi probabilmente bisogna venirli a prendere prima. E qua abbiamo un tizzone. No, martello del fabbro. Questi qua posso provare a darli all'attuale guardiana del fuoco? Anche se non penso. L'abbiamo un oggetto. Ceneri di un vacuo. Ottime. C'è qualcosa. Posso rollare? No. Vabbè. Beh, proviamo ad andare su. Qua non ci sono tipo... Vediamo. Yorm. Sì, è praticamente lo stesso livello. Leggi incisione. Solo che... È un po' diverso. Ma. Dove ero che volevo andare? Anzi, volevo... Ah, aspetta. Di qua non sono andato. C'è qualcosa qua al fondo? Qua in fondo? No. No, forse è dove sono caduto. Ok. Devo andare. Devo andare. Voglio provare ad andare su. Se ce l'ha un su, sto posto. Uh. Qua si muore? No. Uh. E qua dove sono? Ah, ok. È un collegamento. Tattico. Va bene. Uh. Qua abbiamo qualcuno. È ancora viva? Ah, posso comprare oggetti qui? anello della preghiera. Aumenta la fede. Armato... Elmo del cavaliere di lupo. Ah. Questa è l'armatura di Artorias. Beh. Ma io me le investo le 60.000 anime, gente. Sì, sì. E un po' di braci. Perfetto. Perfetto. Grande. Di qua. Ah, ok. Sì, si può salire. Si può salire. C'è il pezzo esterno anche qui. Ho letto una cosa. Ah, esamina. Vediamo. Semi di un albero gigante. Sì, è uguale. Acqua. Eh, no. Però questa non posso aprirla. Non mi ci fa parlare. Beh, direi che ce ne torniamo... Al falò. Altare del vincolo. Ultimo falò visitato. Altare del vincolo. Sì, perché tanto sta zona qua è finita. Bene, gente. Vi ringrazio per aver visto anche questo episodio di Dark Souls Extra. È stato particolarmente produttivo. Non mi ricordavo, anzi, non sapevo di poter trovare l'armatura di Artorias. Quindi uno dei personaggi più iconici del primo Dark Souls. All'interno di questo altare del vincolo, però diciamo un po' oscurato. Penso di aver girato tutto. Anzi, diamo un'occhiata anche fuori per sicurezza. Di qua non sono andato. E infatti, e infatti... Madonna! Oh no, no! No, merda! Mi sembra una fischetta. Ok, perfetto. Oh, il backstab. Ah, non è morto. Adesso sì. Guanti da Cavaliere Nero. Eh, vedete, io che volevo fare l'outro e chiudere il video, invece mi ero dimenticato di Anello del Calabrone. Questo qui aumenta i backstab, gli attacchi in backstab, vediamo. Anello del Calabrone. Potenza e gli attacchi critici. Sì, i backstab praticamente. Allora, c'è un altro pezzo che devo controllare prima di chiudere con voi e sarebbe lì sopra, dove ho trovato un Cavaliere e ce ne deve essere sicuramente un altro. No. Anima di un Cavaliere scoraggiato. L'equivalente di io quando tentavo di uccidere Lorian e Lotric. E... No. Qua sopra mi sembra che non ci sia altro. No, dai, siamo a posto. Va bene, gente. Vi ringrazio per aver visto questo nuovo episodio di Dark Souls Extra. Lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi. Che ci aiuta un sacco per far crescere la balla Game Center. Grazie mille ancora e al prossimo video. Pensavate di esservi liberati di me e invece no, scherzavo. È la seconda volta che volevo chiudere il video, però quando sono tornato all'altare del vincolo mi è venuto in mente appunto degli occhi della guardiana. Anche se non li trovavo nell'inventario, da qualche parte penso ci fossero. E parlando con la guardiana del fuoco dell'altare del vincolo mio, perché vedete che Andrea là in fondo c'è ed è vivissimo, gli posso dare gli occhi della guardiana del fuoco, quindi non ero più parli di idea di a cosa serva questa cosa, però direi che dai gli occhi e vediamo cosa succede. Sono proprio palle oculari. Palle oculari, esatto. Prego. Ok, e adesso? Ci vedi? Beh no, non è che posso tanto andare su di livello, 64.000, parla. Ti ringrazio per questi occhi, creatura delle cenere. Una guardiana del fuoco non può possederne, però è proibito. Così riveleranno in un lampo di luce immagini di orrendi tradimenti. In un mondo senza fuoco. Desidero un mondo privo di fuoco. Posso fare il finale cattivo di Dark Souls adesso? Cioè una volta finito il gioco, se gli porto... Perché io il gioco l'ho già finito, e i titoli di coda li ho già fatti, e ho già sbloccato l'obiettivo del finale buono. Però ho trovato, prima di partire con la seconda storia, comunque... Ho trovato comunque gli occhi della guardiana. Proviamo? Ma certo. Io servo te. Farò come chiedi. Prima di partire con noi. Nessuno deve venirne a conoscenza. Trovo il segno. Trovo il segno. Cieca. Mi curerò della fiamma. Il giorno del tuo tradimento. Ho capito. Questo dialogo bisognava farlo prima di finire il gioco. Se io facevo questo dialogo prima di finire il gioco, potevo sbloccare il finale cattivo. Dato che ora il gioco l'ho già finito, questo dialogo non mi porta a nulla. Però... Vediamo? No, credo che non mi sia più permesso fare niente qua. Infatti. Esatto. Niente. Peccato. Era proprio come... Eh, penso sia proprio come dico io. Cioè... Bisogna per forza quel dialogo lì bisogna farlo prima di arrivare qua. Quando si batte il boss finale quel dialogo lì ti sblocca. Quindi, avendo fatto quel dialogo lì con la guardiana del fuoco tu sblocchi uno dei finali cattivi. Sarebbe quello praticamente dove vai via e non vincoli la fiamma. Mi sa. Cosa super interessante. Perfetta per un episodio extra di Dark Souls. Vabbè. Niente ragazzi. Questo giro proprio è... Vi assicuro che chiudo qua. Vediamo. Offri cenere. Dai ceneri di vacui. Che cosa hai di nuovo? Pommia. Gambali di Lorian. Ah, l'armatura di Lorian c'è anche qua. Elmo di Lorian. Armatura di Lorian. Ficata. Ma non credo che sia stata aggiunta da quella cenere lì. Elmo di Gundir. Questa roba qua è stata aggiunta da quella cenere lì. Armatura di Gundir. Guanti di Gundir. Gambali di Gundir. Wow. E anche un anello nuovo. Un anello del sacrificio. Lì posso comprare. Cosa ottima. Sì, sì. Ti porto anime. Vai tranquilla. Cosa abbiamo qua poi? Non posso più... Ah, dato che mi è morto quel re... Ehm... Ah, lì c'è un oggetto anche. Che non avevo visto. Cosa c'è qua? Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, avvia trasferimento. Cambiazione. Raccoglio oggetto. Anello del teschio. Avvia trasferimento. Posso fare comunque i trasferimenti. Anche se è morto il re che c'era lì. L'anello del teschio cosa fa? Facilita l'individuazione da parte dei nemici. Ok, quando ti invadono praticamente puoi essere individuato più facilmente. Avvia trasferimento. Posso farmi l'ascia di Gundyr? Alla barda di Gundyr? Tanto mi darà 10.000 anime la sua anima. Quindi io direi che la faccio. Scudo di Yorm. Ma cazzo, non l'avevo visto questo. Drop a me in alabarda di Gundyr. Perfetto. Va bene gente. Adesso è veramente la fine di questo episodio extra. Vi ringrazio per l'aver visto. Spero vi sia stato in qualche modo utile. Ci vediamo ad un prossimo episodio di Dark Souls 3 extra. Ciao a tutti dalla Bala Game Shunter.